Vedete come stanno crescendo rigogliosamente tutti i friggitelli? Anche le zucche stanno crescendo, vedete? La mia mano, una foglia Ma nello shorts di oggi vi voglio parlare di loro, delle fragole Dopo aver fatto un raccolto eccezionale, tra poco vi farò scorrere le foto Vi faccio vedere adesso come sono Adesso si stanno propagando, ora vi faccio vedere La propagazione della fragola avviene in questo modo La pianta madre esce uno stolone, sarebbe questo, dove poi va a nascere un'altra piantina Da quella piantina magari, come in questo caso, ne nasce un'altra C'è bisogno che la piantina sia in contatto con il terreno in modo tale da crescere Queste sono fragole che hanno già finito di fare i frutti perché erano fragole unifere Cioè che fanno una sola fioritura e quindi una sola fruttificazione Mentre quelle rifiorenti, quelle che vi farò vedere nelle foto che scorreranno tra poco Stanno ancora producendo Aiutiamo l'insetto Grazie 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 Grazie